il signore ci conceda la pienezza della sua pace l'itinerario di riflessione di meditazione di preghiera e di catechesi che la liturgia della chiesa ci sta facendo compiere in queste ultime domeniche e proprio sulla carità e sulla preghiera domenica scorsa ricorderete abbiamo partecipato alla festa nella casa di marta e di maria e al battibecco tra sorelle per servire nel modo migliore la presenza del signore oggi invece continuiamo la lettura del brano del vangelo secondo luca nel capitolo successivo il capitolo undicesimo sarebbero sono i primi tredici versetti incentrati sulla preghiera in questo modo riusciamo a comprendere cari fratelli cari amici in questa diciassettesima domenica del tempo ordinario anche la struttura del capitolo decimo e del capitolo un decimo del vangelo secondo luca il buon samaritano marta e maria e successivamente la preghiera quindi ci sono i due estremi la carità del buon samaritano e l'insegnamento sulla preghiera e la cerniera che tiene uniti la preghiera e la carità è il brano di marta e di maria in questo modo luca cerca di equilibrare nella sua comunità il primato di dio nella contemplazione e l'amore verso il prossimo nell'azione nella solidarietà e nella carità il brano di marta e maria lascia vedere come queste due dimensioni dell'ospitalità di gesù nel volto del fratello e dell'ascolto in defesso della parola di dio devono coesistere nella casa del cuore di ogni cristiano leggiamo questi tredici versetti del capitolo undicesimo del vangelo secondo luca perché diventino lampada ai nostri passi e ci spingano ad una seria profonda e significativa riflessione sul dialogo di amicizia con dio che noi siamo soliti definire preghiera gesù si trovava in un luogo a pregare quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse signore insegnaci a pregare come anche giovanni ha insegnato ai suoi discepoli ed egli disse loro quando pregate dite padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano perdona a noi i nostri debiti nostri peccati anche noi infatti perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione poi disse loro se uno di voi ha un amico e a mezzanotte vada lui a dirgli amico prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli e se quello dall'interno gli risponde non mi importunare la porta è già chiusa io e i miei bambini siamo a letto non posso alzarmi per darti i pani vi dico che anche se non si alzerà a dargliene perché è suo amico almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono ebbene io vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto quale padre tra voi se il figlio gli chiede un pesce gli darà una serpe al posto del pesce o se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il padre vostro del cielo darà lo spirito santo a quelli che glielo chiedono questa pagina evangelica si iscrive in una maniera splendida nella liturgia di questa domenica dal momento che come prima lettura noi leggiamo un brano tratto dal capitolo diciottesimo del libro della genesi dove dio incontra il patriarca abramo e si intrattiene amichevolmente con lui abramo viene a conoscenza del progetto di dio di sterminare sodoma e gomorra due città nelle quali il male sembra prevalere sul bene e c'è questa meravigliosa preghiera di intercessione di abramo che cerca di strappare dal cuore di dio la promessa di salvare sodoma e gomorra se in quella città vi saranno almeno pochi giusti questa pagina del libro della genesi fa da sfondo a tutta quanta la liturgia domenica scorsa parlava amamo anche attraverso la testimonianza di abramo dell'ospitalità oggi noi parliamo invece di questo dialogo amichevole tra noi e dio spesso leggendo le pagine dell'antico testamento noi ci meravigliamo di questo dio che si rivela di questi patriarchi che parlano e la stessa sacra scrittura parla di mosè come colui con il quale dio parla faccia a faccia egli è l'amico di dio dicevo noi ci meravigliamo ascoltando e leggendo di quello che è capitato ai grandi e grandi personaggi dell'antico testamento e non riusciamo a comprendere che questa realtà noi possiamo viverla nella preghiera abramo che parla con dio che cerca di strappare la promessa di salvezza sta dialogando ora cari fratelli cari amici i discepoli chiedano a gesù insegnaci a pregare ma la preghiera prima di essere una realtà cristiana religiosa dal momento che la preghiera è presente in ogni religione la preghiera l'orazione è una necessità un bisogno umano ovvero iscritto nel nostro stesso dna io ho bisogno di parlare io ho bisogno di relazionarmi con gli altri io ho bisogno di comunicare attraverso le parole quello che mi porto nel cuore e nella mente e le parole servono per dare chiarezza ai miei gesti e ai miei pensieri attraverso il mio corpo io entro in relazione con l'altro e l'altro entra in relazione con me allora in questo modo noi comprendiamo che l'uomo è un essere in relazione siamo solitamente abituati a considerare l'uomo un animale sociale un animale politico io definirei l'uomo un essere in relazione ovvero l'uomo si costruisce attraverso la relazione con gli altri un bambino si costruisce nella sua maturità e la sua responsabilità attraverso il crescere degli anni nella relazione con i genitori e più la relazione è profonda più quel bambino cresce sano la stessa cosa capita con dio la preghiera è proprio questo è la relazione con dio è il dialogo con lui e noi abbiamo bisogno di questo dialogo non soltanto come cristiani ma proprio come persone dal momento che l'essere cristiano porta ad approfondire ulteriormente quella che è la nostra umanità i discepoli quindi che dicono a gesù insegnaci a pregare vogliono entrare in questa relazionalità bella che gesù cristo vive con il padre perché i discepoli guardano gesù che prega vedono gesù che si ritaglia del tempo per la preghiera e si rendono conto che la forza dell'aposturato di gesù è la preghiera allora cari fratelli cari amici noi quando vogliamo pregare quando vogliamo entrare in relazione con dio dobbiamo unirci a gesù cristo dobbiamo dinanzi a noi avere questo specchio del dialogo umano e religioso con dio padre che è costituito da gesù cristo e guardando lui deve sorgere in noi la nostalgia di poter parlare di poter agire di entrare in questa relazione amorosa con dio non fanno forse anche i vostri bambini così non hanno fatto forse così hanno imparato a muovere i primi passi o anche a pronunciare le le prime parole proprio per la nostalgia che l'altro che un genitore che un amico metteva nella loro mente e nel loro cuore ovvero loro si sforzavano nel pronunciare una parola perché la vedevano la stessa cosa capita a noi e deve capitare a noi dobbiamo entrare nella preghiera rapiti dalla contemplazione della preghiera bella di gesù di questo gesù che si trasfigura di questo gesù che si catapulta nel cuore del padre di questo gesù che parla questo cari fratelli cari amici è la preghiera e noi possiamo pregare soltanto se gesù ci dà la possibilità di entrare nella relazione che lui vive con il padre la preghiera cari fratelli cari amici è relazione di amicizia la preghiera è dialogo tra noi e dio non basato sulle formule ma basato invece sul cuore di cristo gesù ascolta il grido dei suoi discepoli insegnaci a pregare ovvero insegnaci a dialogare con il padre insegnaci ad entrare in relazione con il padre e nessuno può entrare a parlare con il padre se non attraverso l'unica e la perfetta mediazione di gesù cristo egli infatti donando il padre nostro non dona ai discepoli una formula ma dona una relazione un approccio con dio che deve essere considerato padre ricco di misericordia e come se gesù cristo nel padre nostro condensasse cristallizzasse i suoi sentimenti di figlio e ci donasse in quella formula la modalità di una relazione e di un dialogo filiale con il padre quando pregate dite padre ovvero entrate in questa relazione che non è una relazione razionale è una relazione esistenziale quando io dico padre io dico papà a colui che ha mi ha generato nella carne quando io dico mamma a colei che mi ha generato e mi ha portato nove mesi nel suo grembo e poi mi ha guidato nel cammino della vita io sto indicando una relazione esistenziale non è una relazione di adozione no è una relazione esistenziale perché io riconosco quella persona come sorgente di quella vita che io vivo questo gesù dona ai discepoli e come se gesù dicesse ai discepoli dio è vostro padre è la sorgente della vostra vita è la scaturigine della vostra gioia e il rapporto con lui non è un rapporto fittizio un rapporto legale un rapporto formale la relazione con il padre è un rapporto è una relazione di vita esistenziale questa cari fratelli cari amici è la porta della preghiera noi possiamo vivere il padre nostro possiamo pronunciare il padre nostro possiamo pregare con il padre nostro se focalizziamo bene questo fatto questa realtà profonda c'è un rapporto tra me e dio è in base a quel rapporto che io parlo che io mi confido che io mi abbandono temeramente a lui nella seconda parte del pad della pagina del vangelo di oggi gesù ci lascia comprende ci dà la possibilità di vedere da una parte qual è il sentimento che noi dobbiamo avere nella preghiera che è il sentimento sempre del cuore di dio che si abbandona e che continuamente chiede e bussa al cuore del padre con insistenza e dall'altra parte ci viene donato questo che possiamo definire l'atteggiamento che dio ha nei nostri riguardi quando noi ci abbandoniamo con confidenza a lui ecco allora che la preghiera viene naturalmente compresa come un dialogo tra noi e dio noi dobbiamo abbandonarci con confidenza e dobbiamo insistere come l'amico importuno di cui ci ha parlato la parabola e dall'altra parte dio ci donerà certamente lo spirito santo a coloro che lo chiedono in altri luoghi del vangelo gesù dice forse il padre non esaudirà coloro che notte e giorno gridano verso il suo volto io vi dico che li esaudirà prontamente ora cari fratelli cari amici chiediamoci io quando prego come prego la mia preghiera è insistente la mia preghiera è continua io mi fido totalmente di questo padre che esaudisce le mie richieste che mi viene incontro nelle necessità e se non mi viene incontro vuole farmi compiere un cammino di maturazione in quella prova in quella difficoltà dall'altra parte riusciamo a vedere che questo dio è pronto a donarci tutto quello che vogliamo ma vuole che noi glielo chiediamo così che nel nostro cuore si prepari l'accoglienza dei suoi doni e dei suoi benefici chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto dobbiamo cari fratelli e cari amici durante questa settimana vivere la relazione profonda con dio bussare chiedere cercare senza mai stancarci perché il signore ci dona sempre il dono dei doni che è lo spirito santo così da vivere come è vissuto gesù perché questo fa lo spirito santo ci fa vivere ed operare così come gesù ha vissuto la sua esistenza e ha operato la salvezza e la redenzione dei suoi fratelli durante questa settimana diciamo al signore insegnaci a pregare entriamo in questa relazione cerchiamo di ritagliarci del tempo per stare in preghiera davanti a gesù nell'eucaristia o anche nelle nostre case perché la sua viva presenza tre tembri la nostra quotidianità e ristori anche la nostra carità ma soprattutto stringiamoci intorno a maria lei che ha guidato i discepoli dopo la risurrezione del figlio suo alla preghiera insistente per ottenere il dono dello spirito santo lei intorno a lei sulle sue baraccia possiamo realmente imparare la preghiera che ci ottene quello spirito che fa nuove tutte quante le cose il signore ci strappi dalla nostra quotidianità e ci dia la dolcezza di perderci nel tenero abbraccio di questo dio il padre che noi incontriamo nella preghiera quando ci mettiamo davanti a lui per catapultarci nel suo abbraccio di misericordia e di pace